Ritorni a questa sede a Brindisi a proporre il tour 2012 del Moodoo dopo la presentazione che hai fatto del tuo film, non me lo dire, che è comunque stata la prima esperienza cinematografica come tracci il bilancio da quando sei stata a Brindisi l'ultima volta fino ad adesso? Beh, l'ultima volta a Brindisi, poi c'è stata l'estate, c'è stata l'estate di mezzo e quindi ulteriori esperienze perché ogni palco che sali, anche se lo spettacolo può essere lo stesso, però ti arricchisce ti arricchisce, ti insegna delle cose, impari a muoverti anche meglio e quindi, voglio dire, dall'ultima volta ad adesso e poi ero troppo concentrato per il film, a dire la verità, quindi sono tornato alla mia realtà che è quello dello spettacolo live e quindi torno carico e poi di solito chi soffruisce dell'ultimo spettacolo perché questo si può veramente dire l'ultimo spettacolo del tour, anche se non è il tour di quest'estate perché quest'estate c'è da dire che abbiamo alternato lo spettacolo, ad agosto ci siamo dedicati più che altro con tutto il gruppo completo, così come ho iniziato a luglio, che ho iniziato addirittura da solo e così un po' a settembre, piano piano, chi è partito, chi non è più disponibile però alla fine abbiamo una bella formazione perché c'è Marilina De Fano, insomma la presenza storica del nostro Moodoo, c'è il corpo di ballo che arricchisce tantissimo perché sono otto ballerini sul palco c'è la cantante Daniela che abbiamo conosciuto con le varie sigle, c'è Gianni che apre la nostra serata quindi alla fine abbiamo uno staff di 14 persone e tante volte essere un po' più sul palco da solo può darsi che sia anche favorevole alcune volte perché mi permette di fare tante, di fare dei monologhi di interpretare delle barzalette che non potrei ovviamente fare quando ci sono tutti, che non posso fare quando ci sono tutti e quindi insomma sono contento di poter esprimere, di potermi far conoscere meglio sotto questo punto di vista dal pubblico dei brindisini Diciamo che ti galvanizza più avere il contatto diretto con il pubblico perché lo abbiamo visto in più occasioni sei molto spigliato ovviamente per una questione lavorativa perché è una cosa che ti sta addosso benissimo ma tra l'altro è evidente, ti si vede negli occhi, dall'espressione che il contatto col pubblico ti metti in un'altra veste è vitale, è vitale, ti insegna tanto, poi io nasco a contatto col pubblico, animazioni nei villaggi c'è un momento in cui ti stanchi un attimino di stare sempre a contatto però io per fortuna nell'anno riesco ad alternare i mesi in cui ho lo spettacolo, i mesi in cui faccio le riprese e quindi stai a contatto con la telecamera poi sei stanco di stare davanti alla telecamera e hai bisogno del contatto col pubblico e quindi torni al contatto col pubblico insomma è bellissimo alternare questi momenti tra spettacolo live e riprese varie Per chiudere ti chiedo, se c'è preso gusto col cinema e quindi c'è qualcosa che bolle in pentola di nuovo e cosa ti aspetta invece per il futuro per quanto riguarda il Moodoo e gli spettacoli dal vivo? Come spettacoli dal vivo, arrivando la stagione invernale mi auguro di fare un po' di teatro che non ho mai potuto fare perché ho occupato nelle riprese televisive e non tanto con il Moodoo ma con una commedia che mi vede come attore, attore comico e poi gusto per il cinema è ovvio che c'è e mi auguro quella è un'opera prima che ci sia l'opera 2 con riprese che potrebbero iniziare nel mese di maggio per essere pronti quindi poi verso novembre del 2013 Perfetto, noi ti salutiamo, ti ringraziamo, ti chiamo un saluto alla tua maniera per il gruppo Summertime Summertime, allora Summertime dovete venire allo spettacolo? E venite, no, allora devo andare, c'è un ragazzo del gruppo Summertime Si alza la mattina, devo andare allo spettacolo, e va, e va, e va, e va, visite un move